Di recente il famoso attore e regista italiano Carlo Verdone ha realizzato un appello attraverso un video che ha pubblicato nella sua pagina ufficiale di Facebook andando a invitare i romani a votare per questo referendum sull'Atac che ci sarà il giorno 11 novembre 2018. Quali sarebbero state le parole usate da Verdone? Sarebbero state le seguenti, adesso ve le leggerò per poi fornire una mia opinione, un mio parere in base alle parole di Carlo Verdone. E avrebbe detto, l'11 novembre c'è un referendum importante del quale molti romani non sanno assolutamente niente e questo è un minuto di allegie. E' importante che vadano a votare, possono votare sì o possono votare no, ognuno la pensa come è giusto che la voglia pensare. Però è un referendum sull'Atac e la cosa mi sembra abbastanza seria perché ultimamente l'Atac ha avuto e ci ha dato soprattutto a tanti cittadini che usufruiscono dei mezzi tanto. Bene, questo avrebbe detto il buon Carlo Verdone. Beh, caro Carlo, mi sento di spezzare una ancia in favore delle tue parole e di dire che effettivamente la penso come te. Mi auguro che tutti noi romani, io vivo a Roma da ormai più di 30 anni di tempo, vadano a votare per questo referendum sull'Atac dell'11 novembre 2018, che ricordo a tutti è domenica. Grazie, quindi domenica a tutti al voto. Un saluto, iscrivetevi, complimenti a Carlo Verdone.